È un fenomeno particolarmente odioso che purtroppo non viene mai meno e questa operazione che abbiamo fatto oggi è la dimostrazione che ancora continua ad esserci e che viene portato a termine con modalità particolarmente pervicace. Addirittura non erano bastate neanche due tranche di pagamenti perché ne volevano ancora altre somme e quindi alla fine la persona offesa si è stancata e ha denunciato il fatto. Rubavano auto e camion per poi chiederne il riscatto, il sistema del cavallo di ritorno ritenuto più semplice e conveniente per la vittima, pagare per riavere il bene sottratto. Il gruppo criminale operava tra la piana di Gioia Tauro e il Vibonese, sette le misure cautelari, una in carcere, quattro ai domiciliari e due obblighi di dimora. Tra loro anche un esponente del clan Bellocco. A far scattare le indagini la denuncia del proprietario del camion rubato a maggio scorso a Mileto. 1.500 euro la prima richiesta per la restituzione del mezzo già pronto per la partenza, destinazione Libia, poi una nuova richiesta altri 2.000 euro. Da qui la decisione di rivolgersi alle forze dell'ordine. Se la gente collabora forse riusciremo a dare la spallata finale per evitare che possano riprendersi il territorio, come facevano prima.